Una domanda sul schermo di compensazione YouTube. Ci sono dei plani per usare il schermo anche per molti youtubers? Stiamo lavorando su questo. Non posso comitare a questo punto, ma posso dire che questa attività, questo seminario, credo che sia un buon signo di comitazione e posso dire che i centri che sempre usiamo sempre, stai attunediti. C'è un video di YouTube con il mio amico. C'è un video di Instagram e Facebook con il mio amico. C'è un video di creazione di Bidou. Non c'è un video di cui ho fatto, quindi non c'è un video di cui ho fatto, ma ho fatto un progetto di migliorare. C'è un platform di YouTube. Għali għadina tfisser ut komplituri, kem għadin fizimin digitali, u kem għallura sistema ta' komunikazzjoni bejnietna, naturalmentin bidlet me indigli kuna nafus għas ninilu. Un nis iridu ikunu jafu waktar kif din il-komunikazzjoni digitali taħdem, un man kiki fisao aléon.